Un SMS per partecipare allo screening per l'epatite C. Partiranno lunedì 18 settembre e si spalmeranno nell'arco di un paio di mesi indirizzati a 982.000 toscani tra i 34 e i 54 anni che possono aderire alla campagna promossa dalla Regione Toscana e finanziata dal Ministero della Salute. Chi non dovesse riceverlo ma rientra nella fascia d'età interessata può comunque ricarsi autonomamente in una delle sedi dove viene effettuato l'esame. Nelle prime due settimane, ossia sino al 14 settembre 1.656 persone hanno effettuato il test e tra queste 16 sono risultate positive un dato ampiamente in linea con le statistiche di diffusione della malattia nella popolazione toscana e italiana. Dall'epatite C oggi è possibile guarire ma il test è fondamentale per la diagnosi perché spesso la malattia decorre senza sintomi fino a diventare croniche ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Il test si può fare in una delle sedi delle associazioni di volontariato che hanno aderito alla campagna oppure nelle sedi dell'ASL.